ciao a tutti e benvenuti questa lettura per il segno dei gemelli era lettura senza tempo quindi il momento in cui vedrai questo video sarà probabilmente il momento giusto per te per ricevere il messaggio che contiene se senti bisogno di ricevere altri messaggi o integrare questo messaggio ti invito ad andare a vedere il tuo ascendente o un tema per uno scusate un segno predominante nel tuo tema natale io mi chiamo lisa mi occupo di crescita personale crescita spirituale per questo motivo queste letture non sono divinatori non vado a predire il futuro ma servono a dare uno spunto per riuscire a superare una difficoltà che si sta vivendo in questo momento o comunque per un sostegno nella propria vita se ti piace il video ti invito a iscriverti al canale cliccare sulla campanellina in questo modo sarai aggiornato tutte le volte che esce una lettura nuova ho già estratto una carta dall'oracolo wicca per questione di velocità che e poi seguirà la lettura dei parocchi per voi la carta è la numero tre la coppa cosa vi sta dicendo il calice anzi questa carta vi dice bevi profondamente dal calice della vita e dell'amore sentiti collegata con le acque del mondo e in unione armoniosa con tutti gli esseri ti è stata data la possibilità di provare sensazioni meravigliose rispondi a questa chiamata è un po' un invito ad aprirsi alle emozioni a riaprire forse il cuore forse tutta la componente emotiva ed emozionale l'affermazione per poter lavorare questo per potervi aprire proprio a ricevere amore a dare amore è proprio quello io amo e sono amata io amo e sono amata quindi ripetete questa frase più volte al giorno davanti a uno specchio a voce alta per renderla ancora più potente scrivetela scrivetela sul foglio scrivetela nei commenti in questo modo eh permettete a voi stessi di concretizzare questa energia la sfida che vi dà questa carta quindi a che cosa dovete riflettere su che cosa dovete lavorare dove devo mettere scusate no quale parte del mio spirito ha bisogno di guarire quale parte del mio spirito ha bisogno di guarire quindi se noi chiudiamo il cuore se chiudiamo la nostra parte emotiva se ci difendiamo dalle emozioni probabilmente c'è una ferita una ferita dell'anima una ferita emotiva dove potete andare a lavorare per guarire che cosa ha bisogno in questo momento della vostra vita di guarigione e portate lì la vostra attenzione lavorateci non possiamo pretendere che l'universo ci mandi amore ci mandi eh le soluzioni se noi non siamo disposti a metterci del nostro quindi lo fate con eh le tecniche che preferite voi lavorateci con qualcuno fatevi aiutare da qualcuno da dei video che possono darvi delle ehm ispirazioni da dei libri non ha importanza datevi da fare per poter aprire questo cuore comunque più che aprire il cuore eh andare a lenire quella ferita perché già facendo così state riaprendo la vostra parte emozionale ed è interessante quello che esce a livello di tarocchi abbiamo la regina di bastoni il diavolo è il cavaliere di coppe quindi regina di bastoni vi invita a contattare in un certo senso questa energia molti di voi forse proprio a causa delle ferite che avete ricevuto nella vostra vita vi siete ritirati avete smesso di esprimere questa energia la regina di bastoni ha un'energia molto potente molto passionale molto carismatica ha voglia di divertirsi lo fa ha voglia di eh esprimersi lo fa non si fa tanti problemi e focosa serve in questo momento probabilmente a qualcuno di voi questa energia nella propria vita quindi ricontattare o trovare un modo di contattare questa parte in qualche modo anche eh piena di autostima ma soprattutto di divertimento di passionalità quindi collegato a quello che si è detto prima nel momento in cui cominciamo anche a guarire il nostro cuore smettiamo di essere protetti di proteggere la nostra luce questa è una è un'energia eh che non ha paura di brillare non ha paura di espandere la propria luce e per permetterle veramente di brillare bisogna andare a lavorare sull'energia del diavolo che c'è in tutti noi sono i vostri pensieri limitanti sono i nostri pensieri limitanti sono le credenze quelle eh menzogne che ci diciamo la voce che dice non sono abbastanza non sono capace non sono amabile tutte quelle voci lì che tutti noi abbiamo dentro di noi purtroppo e abbiamo così fissato nell'inconscio che in qualche modo ci utilizzano come dei burattini senza nemmeno che ce ne rendiamo conto e quindi restiamo legati qui ci sono due ragazzini che sono legati incatenati a questo diavolo e perciò c'è bisogno di liberarsi da quelle catene come si fa si fa innanzitutto rendendosi conto di che cosa ci dicono queste voci quindi fare un lavoro su di sé per tirare fuori le proprie convinzioni limitanti tirare fuori quelle che sono le proprie menzogne eh interiori e avendole viste in qualche modo si smascherano in qualche modo ci dà la possibilità di togliere la catena che fino adesso avevamo senza rendercene conto è un lavoro che ho fatto io è un lavoro che faccio fare alle persone che eh si rivolgono a me ed è un lavoro potentissimo proprio perché queste eh queste credenze limitanti sono quello che in qualche modo ci fanno agire o non agire nella nostra vita senza sapere il perché ed è frustrante perché uno vorrebbe fare vorrebbe raggiungere certe certi obiettivi e neanche fa il primo passo e non capisce il motivo e e quindi aumenta il giudizio e aumenta si alimenta ancora di più quella credenza non sono abbastanza diventa ancora più vera dentro di noi fatto questo c'è la connessione con il cavaliere di coppe è sempre un collegamento alla propria dimensione emotiva ed emozionale provate cercate di agire attraverso le vostre emozioni emozioni inteso come la parte eh più vera di voi quando uno dice ma io non mi muovo per paura la paura si è vero che è un'emozione ma è un'emozione che nasce nella mente nasce dai pensieri nasce da queste credenze limitanti di cui vi ho appena parlato quindi è importante per voi riuscire a entrare in connessione profonda con la vostra dimensione emotiva e agire attraverso le emozioni non attraverso i vostri pensieri non attraverso la mente che vi blocca ed è molto collegato al calice che abbiamo visto prima riprendo quel messaggio perché secondo me ha molto senso è interessante notate il ragazzo sta bevendo da un calice bevi profondamente dal calice della vita ditemi voi se questa lettura non ha senso e dell'amore sentiti collegata con le acque del mondo e in unione armoniosa con tutti gli esseri ti è stata data la possibilità di provare sensazioni meravigliose rispondi a questa chiamata che dire tutto è stato detto liberatevi dal vostro demone questa è la cosa più importante spero che questa lettura vi sia stato utile se vi è piaciuto vi invito a mettere un like al video e noi ci vediamo prossimamente per la prossima lettura a presto grazie a tutti